Fiorentina, Fioli, ho visto una buona prestazione La Fiorentina ci prova, ma alla fine esce sconfitta, anche se di misura, dalla sfida contro la Juventus di Allegri. Stefano Fioli comunque vede una squadra che continua a crescere partita dopo partita, ma è chiaro che ora il tecnico vuole anche portare a casa qualche punto oltre che complimenti ed elogi. Fioli parla a Sky Sport della prestazione contro i bianconeri, la prestazione che è stata. Noi siamo una squadra che deve provare a giocare palla, abbiamo determinate caratteristiche. Se abbiamo fatto un errore è stato nella gestione della palla nel primo tempo. Ci siamo difesi un po' più bassi del solito ma è stato per la squadra che affrontavamo stasera. . . . . . . . . Qualche passaggio semplice labbiamo sbagliato nel primo tempo ed è lì che potevamo crearci qualche situazione a favore. La Juventus sa tutto, non è mai facile superare un avversario organizzato. Hanno talmente tante soluzioni che diventa difficile. .